allora salve a tutti con questo video di tre minuti voglio spiegarvi un pochino perché io ho scelto di fare i lavori online e per quale motivo li faccio i lavori online non è che io ho un grosso guadagno per il momento nei lavori online e perché non ho questo guadagno perché le persone credendo che io avendo i genitori ancora vivi e essendo figlia unica cioè posso posso avere già un guadagno chissà quanto sui social no quei lavori online non è così perché ho creato il blog posta per coinvolgere la gente a farmi guadagnare cioè attraverso i link che ho messo nel blog che poi stasera l'ho aggiunto anche un altro di link che ho appena scoperto un altro metodo di guadagno che non so se sia affidabile ancora però magari se la gente gli piace creare i siti o i blog gli può essere utile e se clicca sul link che che io ho messo di ref sempre preso dal dal dove ho creato il blog praticamente c'è un'opportunità di farmi guadagnare ecco quello che voglio dire perché io non ci sono su internet per divertimento sui social per divertimento non dovete pensare questo non dovete pensare che io sia una follower famosa non lo sono mi piacerebbe esserlo ma non lo sono perché non mi seguono tante persone per esempio qui su tiktok ancora non sono arrivata neanche a 10.000 a 10.000 follower ti tocca i piani ecco cioè perché anche perché mi dovete seguire mi dovete anche commentare mi dovete far conoscere va bene non criticandomi farmi conoscere bene non con le critiche perché le critiche se non mi conoscete a fondo non potrete farmene dovete imparare queste cose ecco non potete umiliare una persona perché vi propone delle cose dovete capire perché ve li propone queste cose dovete cercare di conoscerla giorno dopo giorno anche un cinque minuti mezz'oretta al giorno un saluto non come stai